Crocevia del business La provincia di Varese è posta nel cuore dell'Europa, vicina a Milano, a ridosso delle Alpi e alla Svizzera. Questo territorio abbina uno sviluppo economico tra i più alti in Europa, con un ambiente naturale ricco di fascino, dove l'azzurro dei laghi si interseca con il verde dei parchi e delle vallate prealpine. Collegata alla Germania e al nord Europa con il più importante passo alpino, il Gottardo, e la nuovissima Alpe Transit Ferroviaria Svizzera, Varese conferma la sua vocazione ad essere crocevia degli affari, così come già lo fu fin dall'Ottocento. E' proprio nel Varesotto che si è sviluppata un'industria manifatturiera prima in Italia e leader in Europa. Oggi, nel nuovo millennio, la vocazione resta la stessa, valorizzata e modernizzata dalla presenza sul suo territorio dell'aeroporto di Malpensa, il più importante scalo dell'area centro-meridionale europea, crocevia del business varesino. La prossimità geografica con la fiera di Ropero, la più moderna e importante a livello continentale, ha ulteriormente valorizzato lo sviluppo e la capacità di scambio economico. Varese è infatti l'area più vicina per accoglienza ai business. La costante e progressiva produttività di questo territorio ha saputo coniugare uno sviluppo economico tra i più alti in Europa, con la conservazione di un patrimonio ambientale di altissimo pregio, il tipico paesaggio prealpino immediatamente a ridosso delle Alpi. Ricerca, scuola, formazione Varese è un'area che ha saputo investire in formazione e in centri d'eccellenza. L'obiettivo è di un proficuo connubio tra la qualità delle risorse umane e la ricerca scientifica, per offrire il miglior supporto allo sviluppo economico. Negli anni 90 sono sorte due università, l'Insubria e la Carlo Cattaneo Liuc. Le facoltà garantiscono un'offerta didattica variegata e soprattutto di alto profilo, capace di rispondere alla sempre maggiore richiesta di specializzazione e competenza che proviene dal Varesotto e dalle sue molteplici realtà produttive, culturali e di servizio. A Ispra svolge la sua attività una delle più importanti strutture di ricerca dell'Unione Europea, il CCR. Studio, approfondimento, sperimentazione e sviluppo tecnologico permettono la crescita competitiva delle imprese europee. Il Polo Scientifico e Tecnologico Lombardo di Busto Arsizio sostiene e sviluppa il trasferimento dell'innovazione. Come il Centro Tessile Cotoniero e dell'abbigliamento, sempre di Busto Arsizio, offre servizi specializzati per la certificazione e il controllo qualità per sostenere le numerose aziende della filiera tessile. A 1200 metri, sulla vetta del Monte Campo dei Fiori, l'Osservatorio Astronomico spalanca le sue cupole al firmamento e unitamente al Centro Geofisico Prealpino, offre possibilità di studio ed approfondimento scientifico d'altissimo livello. Industria e artigianato Varese è un'area ad altissima densità imprenditoriale. Un territorio dove il tessuto abitativo si intreccia con una fitta rete di laboratori, officine e stabilimenti. Aziende spesso frutto dell'ingegno e della capacità innovativa di abili imprenditori. Con una popolazione di poco più di 800.000 abitanti, la provincia di Varese annovera ben 63.000 imprese attive. Oggi il sistema Varese è sempre protagonista grazie alla sua economia, che ha saputo diversificarsi nella propria offerta, proponendo al mercato prodotti ad alta qualità. Un sistema Varese leader sui mercati internazionali. Il 35% dei prodotti sono destinati all'export e il saldo della bilancia commerciale è fortemente attivo. I mercati di riferimento sono Germania e Francia, ma forte è l'espansione verso le nuove frontiere del commercio internazionale. Quattro sono i metadistretti baresini. Moda, nuovi materiali con metalli e materie plastiche, biotecnologie alimentari e biotecnologie chimiche, farmaceutiche e fibre sintetiche per il tessile. Grandi aree di eccellenza, con forti legami con il mondo della ricerca e dell'innovazione. Industria e artigianato operano sia nella metalmeccanica che nel tessile cotoniero. Nella chimica farmaceutica, gomma e materie plastiche, elettrodomestici e aeronautica. L'artigianato baresino ha saputo conservare nel tempo posizioni d'avanguardia, confermando il proprio ruolo primario nella vita produttiva provinciale. L'artigianato artistico ha saputo trovare l'energia e il guizzo creativo per evolversi verso la moderna innovazione pretesa dai mercati. Agricoltura L'agricoltura baresina offre spazi a prodotti sempre più significativi e particolari. Questo settore, senza avere grandi numeri sul piano quantitativo, ha però saputo nel tempo, con forza e costanza, puntare sulla qualità. Oggi, la qualità dei diversi prodotti della provincia di Varese, nei settori dell'allevamento zootecnico, ovo caprini, nella produzione lattiero casearia, nel florovivaismo e nell'apicoltura, è riconosciuta da tutti. musica 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 Recuperando una grande tradizione, la scelta degli ultimi anni di procedere sulla strada dell'ottenimento delle qualifiche DOP e IGT per i diversi prodotti, ha permesso il raggiungimento di traguardi già oggi ragguardevoli e in continua espansione, sia nelle aree collinari che di montagna. musica 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 nella tutela e conservazione del territorio lacustre e collinare musica 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 Nelle vallate prealpine, dove è assai attenta alla cura delle foreste, è in continuo sviluppo anche l'agriturismo, che favorisce la diffusione, specie all'estero, dei marchi d'origine e di qualità varesini. musica musica turismo d'affari musica 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 Il grande sforzo congiunto di Camera di Commercio e Provincia per valorizzare attraverso il Varese Convention Bureau, questo territorio come sede ideale per meeting, congressi e convegni, ha già dato ottimi risultati. musica Varese Convention Bureau si pone quale punto di riferimento e coordinamento dell'offerta congressuale di Varese e Provincia e si presenta agli operatori professionali come interlocutore indipendente e affidabile a garanzia della qualità dei servizi offerti. musica Ville in parchi secolari, che immerse nel verde, offrono tutti i comfort e i servizi per un'attività congressuale di qualità. Moderne strutture, che offrono il vantaggio di essere una Varese crocevia del business. musica Attrezzature in grado di soddisfare ogni esigenza. Alberghi, residenze turistiche e centri congressuali e per gli ospiti del turismo d'affari leisure time, cultura con la Varese capitale del Liberty, i sacrimonti patrimonio UNESCO, shopping in eleganza, sport da praticare, sui corsi d'acqua come nelle ballate e perfino l'ebbrezza del volo. Ma sport anche da ammirare come spettatori. Qui c'è una delle squadre di basket più gloriose d'Europa e sono organizzate alcune delle più importanti gare ciclistiche del calendario internazionale. musica 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 Grazie a tutti.